Ecco, questa è una cosa molto importante, perché si parla tanto di tecnologia e c'è tantissima tecnologia quando dice raccogliere le dati, significa raccogliere le dati che poi vanno riconvinte alla barca di Copamerica di oggi è davvero uno strumento modernissimo e c'è un po' anche di linea delle iniziative, però come dicevi, giustamente sono gli uomini che la fanno andare Io devo dire, ho avuto la fortuna di stare due giorni con voi alla base, non credo di aver mai visto un team nello sport che lavora così tanto e con quell'atteggiamento lì, questa è una cosa che mi dice, ah grazie a tutti, comunque ti dico una cosa